non vi intratterrò cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 10 avrile 1975 a cura dvb dali questa sera non vi intratterrò con la consueta prolusione voi comprenderete il perché poi io vi raccomando vivamente durante lo svolgimento di questa seduta di stare massimamente concentrati fate uno sforzo ma cercate di riuscire intendo dire che dovete seguire quello che viene detto anche a costo di fare forza a voi stessi perché naturalmente noi comprendiamo che l'argomento può non essere di interesse generale ma voi dovete egualmente seguire quanto esporrà campis senza pensare ad altro per non disturbarlo voi dovete sempre tenere presente o figli cari che i vostri pensieri per noi sono perfettamente intelligibili quando voi pensate intensamente ad altre cose magari della vostra vita privata di quello che dovrete fare domani e via dicendo è come se voi steste parlando e qualcuno assieme a voi cominciasse a parlare di cose di altri argomenti a voce alta quindi l'oratore probabilmente perderebbe il filo del discorso come si usa dire quindi cari mi raccomando a voi di fare uno sforzo di volontà per seguire quello che noi diciamo con questa raccomandazione vi lascio momentaneamente che la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari grazie mille grazie Grazie a tutti